Continuare a prendersi cura della terra in modo speciale, senza distruggere l'equilibrio ecologico e la saggezza dei popoli. È stata la raccomandazione in spagnolo di Papa Francesco ai circa 40 rappresentanti dei popoli indigeni riuniti a Roma in occasione della quarantesima sessione del Consiglio dei Governatori del Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo, IFAD, ricevuti prima dell'udienza generale. Il Pontefice ha ricordato che è necessario conciliare il diritto allo sviluppo, compreso quello sociale e culturale, con la tutela delle caratteristiche proprie degli indigeni e dei loro territori. Ha poi esortato i governi a riconoscere le comunità autoctone come una componente della popolazione che va consultata, inclusa e tutelata. Non si può permettere, ha aggiunto il Papa, un'emarginazione o una divisione in classi.